Super bonus, trasporto merci pericolose, sono due temi di grande attualità a cui Confartigianato dedica due incontri, sono incontri online data ancora insomma la situazione. Partiamo dal primo che è in programma lunedì. Lunedì incontriamo i nostri parlamentari e consiglieri regionali per riaffrontare per l'ennesima volta tutto il problema delle cessioni del credito. Proprio oggi entra in vigore la norma che vieta le cessioni plurime, è un momento importante, Confartigianato ha sempre investito fin da subito sul super bonus, sulla cessione dei crediti, ci ha creduto fin dall'inizio, consapevole della serietà delle aziende che si affianciano a Confartigianato. È uno strumento importante, siamo arrivati a metà, non possiamo lasciare le nostre aziende e le nostre famiglie sole, dobbiamo intervenire assolutamente. Martedì invece si parla di merci pericolose, trasporto merci pericolose che è già un altro argomento di attualità dove insomma anche qui c'è molto da fare. Sì c'è molto da fare, ci sarà l'intervento del prefetto che è rimasto subito entusiasta dell'iniziativa che facciamo e di tutte le autorità competenti. Affrontiamo il tema della consulenza, del trasporto merci pericolose, non soltanto del trasporto ma anche stoccaggio, imballaggio eccetera e la nostra società che fa sicurezza nei luoghi di lavoro ha dei professionisti qualificati per poter assistere le aziende. Tratteremo insieme con le aziende ma più che altro con le autorità per capire anche dove gli enti di controllo vanno a sanzionare. Quindi diciamo è un momento molto importante che invito tutte le aziende a partecipare con l'attenzione che abbiamo in questo momento anche all'ambiente che non è cosa da poco. Grazie a tutti.